alexander aksakov 1832 1903 uno dei primi e tra i più noti medianisti russi fondò in russia rebus una rivista specializzata sullo studio del paranormale convinto medianista intui fra i primi l'inaccessibilità del metodo scientifico ossia della mente ai fenomeni osservati sperimentò diversi strumenti divenuti poi storici tra i quali eusapia paladino e elisabeth de speranze tra i suoi libri animismo e spiritismo un caso di smaterializzazione parziale del corpo di un medium e il precumente cursori dello spiritismo